Ma sto ancora fuori! Fatemi il coperto! Sino! Sino dice la verità mamma, ma tu te lavi i piedi? Sì, oi ma! Quanti voti? Due voti ma! No, due voti alla settimana ma! Sino mi hai veduto tutta cosa! Oi ma, è cagliare il lenzale! Sino vuole il lenzale! Adesso che andiamo un po' madarazzo! Caroli! Stai a posto! Hai già fatto? Uii! L'hai conciata la mattina! Sì, caroli! Qual era che non funzionava? Che stai a destra! Eh! Che non l'ha un lato di destra! A posto! Buona funzione! Manca che stai a sinistra! Ma tu non sei buona proprio! Fai solo wifi! Caroli, uno sì, uno no! Pareva brutto! E poi ci mi diceva che se non c'essi a casa! Stai a casa! Se non c'è a destra! Uii! A presto! 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 Caroli! Ma stai tranquillo! Qual è il problema? È tutto sotto controllo! Già ci hai già pensato! Perché tu pensi pure? Eh! Pensi che sì! Sì! Ma quindi ora c'è un matarazzo? Sì! Non c'è un matarazzo ma c'è un matarazzo! Ma che tu vedi che i matarazzi piovono da cella così? Chi è? Eh! Chi è? Lui può mangiare frutta! Eh! Che frutta volete? Puoi trovare la banana retata! Mia tussa! Va preghiamo! Ma questa banana è troppo amato! Pronto? Chi è? Sì! Terzo piano! Sì! Ora scendo io! Se vuoi salire al terzo piano io ora scendo! Sì! Sì! Ora scendo! Però voi venite al terzo piano e salite così io scendo! Eh mamma! Se queste scende chi lo sai a fare? Arit buono! Come sai a fare qui? Eh allora non lo sai a te! Scende tu! No scende voi! Ma chi lo sta già passando? E poi non lo sai io o no? Tu scende! E chi lo sai? Ma voi! C'è prima mia zesca! Ma Gio è tutto apposta! Ecco qua! Questo è il madrasso! Pfff! Com'è bello qua dell'acqua! Mi disse carolo che questo ti portino fino a casa! Ma voi sono sbagliato! Eh mamma! Perché li ce l'hai fatta! Signora questo è uno dei tanti madrasso che abbiamo! Oh! A quante anni ti avessi sticcato? Oh signor! Trimmo oltre 22 modelli impronti da consiglio! E guarda qua! Che stava chiaro? Che stava accadendo! Trimmo pure l'arito ortopedico che chiamano le linee! Con 5 piedi bella tosta tosta! Hai capito? Che stava accadendo! 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 E mica trimmo solo questo! Trimmo pure il contenitore! Parigi! Berlino! Wow bellino! Wow quello è bellissimo! Ma abbiamo anche il costa rica! Costa rica! C'è questo costa rica! Ma come ho accaduto? Ma come ho accaduto? Ma abbiamo anche questo colma! Ma che ti ho colma? Ma che ti ho accaduto? Ma che ti ho accaduto? Ma ti metti proprio in imparato della... E la vostra risposta! Eh? Sì io ti ho usato anche madrasso! Ti ho pure il silver e l'argento! No l'argento no! Quello mi scaduto in coppa e dentro! Meglio l'ora! Che anni è l'argento che ti ha accaduto di compagni? Quello è proprio l'argento! L'argento è merda! La roba fatta mi hai fatto roba! Signor non mi preoccupate! Abbiamo anche il madrasso elegans! Hai capiii! Che cosa? Tra un madrasso elegans! E lo pare di buttando a me no? 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 Ma facciamo un buttello! Siente! 3 pari 5 euro se fa! Ma frega! Signor mi avete capito? Il madrasso elegans! Scusate perché no! Guardate signor non vi volevo offendere! Passammo a press! Abbiamo anche il modello colto! Con molle e memory! Si non è finito il ca! Abbiamo anche quello bambù! Oh questa è bella mia madrasso per mamma! E perché? E' babbù! Babbùine mamma! Signor dopo tutti questi modelli mi avete scelto il cicchio regalo! Ah se c'è un regalo non so vedi! Quale regalo? Chi li c'è papà? Oh allora sai giù! Comunque esagerato nel mio cuofo e nel madrasso! Oro, argento e le cazze! Cod'è le cazze no? Fatte le cazze tu! E' incredibile! Ma al finale non me ne hai fatto questo! E' niente! E' bello e buono con i pagamenti alla consiglia! Ooooooh! Poi ti facciamo i pagamenti con il bancomatto concorso! Ooooooh! E alla fine ci fanno i cuoretti di cittadinanza! Ooooooh! Sick! Sick! Rock and roll! 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 Everybody on the distro!